buongiorno ragazzini buongiorno dal salento juventus mondo 02 ora tutti gli juventini che se la prendono con la penalizzazione con i giudici con il sistema io andrò a conto corrente allora ragazzi de sciglio a lecce farebbe panchina farebbe la panchina di gendry sarebbe la panchina ve lo dico io non si può giocare c'è una giro non può giocare de sciglio de sciglio è uno scarto è qualcosa che non si può vedere e paredes signori paredes quando giocava nella roma i romanisti lo fischiavano vi rendete conto lo fischiavano dalla roma sono andato al paris a germen e ha fatto panchina tribuna non convocato cioè se tu vai a chiedere ai tifosi del paris a germen che è paredes la metà dei tifosi non sanno neanche chi sia non se lo ricordano ditemi voi che cosa ne pensate di paredes se paredes per voi è un grande tenetevelo ve lo consiglio bremer bremer è un è un acquisto che doveva fare l'inter poi si è inserito la juve che gli ho offerto il doppio di quanto gli offriva l'inter e sappiamo tutti perché la juve ha la possibilità di offrire il doppio di quello che offrono altre squadre e si è preso breve ora io dicono breve stai sulla linea di porta c'è bisogno di toccare quel pallone così da far da far annullare il gol non penso lasciarvi quel pallone andare in porta ed era gol cioè ci sono cose che io non capisco nella juve e allegri di allegri non parlo perché se parli male di allegri gli juventini ti maledicono perché se tu critichi l'inter o il milan ci sono interisti e milanisti che sono d'accordo o interisti e milanisti che non sono d'accordo e ti c'è ti spiegano perché non sono d'accordo no gli juventini non sono così io ho imparato a non criticare mai gli juventini perché gli juventini ti criticano ti augurano tutto quello che di male ti può capitare e allora vaffanculo tenetevi quello che volete comunque grande monza davvero grande monza e ricordatevi che il l'attaccante che ieri ha fatto il secondo gol alla juve è un attaccante che la juventus che era della juventus e che la juve ha ha deciso di mandare in serie c giocava con la squadra della juve in serie c perché non è che ha deciso di non confermare facendolo partire complimenti agli scout della juve davvero gente competente e detto questo cari tifosi non prendetevela con lo stato con la giustizia con i giudici non prendetevela con loro avete gente incompetente davvero incompetente finché vi è stato possibile fare quello che avete fatto tutto è andato bene adesso che non vi è più possibile le cose stanno crollando se qualcuno ha qualcosa da dire argomenti la cosa se dovete solo insultare e ben andato da affanculo ciao